Nel giorno della festa della donna il comune costiero di Giulianova ha deciso di festeggiarlo sotto il segno del ricordo e lo ha fatto con la premiazione della seconda edizione del concorso letterario organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune e rivolto alle scuole secondarie inferiori abruzzesi in memoria dell'oncologa Esther Pasqualoni barbaramente uccise il 21 giugno 2017 nel parcheggio dell'ospedale di Sant'Omero da un uomo che la perseguitava da anni. Siamo ancora qui tutti insieme, educatori, formatori addetti ai lavori, Commissione per le pari opportunità a ricordare quanto sia importante e sensibilizzare i giovani sull'argomento. Non è mai troppo tardi, bisogna sempre insistere, quest'anno il concorso aveva come tema il cuore non dimentica il cuore è il muscolo più importante, la sede degli affetti e di tutte le emozioni dell'individuo e con questo concorso e con questo tema abbiamo voluto nuovamente invitare i giovani a riflettere sull'argomento e in maniera particolare a educarli ad una sana affettività. Abbiamo avuto circa 100 elaborati, nuove scuole che hanno partecipato rispetto alla prima edizione, tutta la giuria composta da giornalisti e anche collaboratori della dottoressa Esther Pasqualoni, in maniera particolare i giornalisti Mirella Lelli, Antimo Amore, la editrice Valeria Di Felice e poi il dottor Pio Giorgio Casaccia e l'infermiera Gaetana Casalena. Tutti insieme abbiamo letto gli elaborati, io ho presieduto senza espressione di voto, scegliendo soltanto due menzioni speciali e l'emozione è stata tanta. Anche quest'anno i ragazzi hanno dato un'ottima restituzione sull'argomento.